Ci siamo, Foro Italico, Manuela, Leggo Staglie, Corsia 9, siamo all'Olimpo del Nuoto, batteria eccezionale con la Puttorelli, la Moro, la Tarantino, tutti i tempuni. Forza Manuela, al momento la batteria sembra abbastanza equilibrata, a parte la Corsia 8 che sembra abbastanza dietro e la Corsia 1. Ci calciano, intanto ci calciano, io devo fare le riprese e quindi da qua non mi muovo. Alla virata Manuela sembra aver guadagnato sulle avversarie di contro, la Corsia 8 e 10. Io devo finire di fare il video. Purtroppo non riusciamo a riprendere appena la virata che il mio assistente Ivan Cappellini mi suggerisce che il passaggio è a 1 e 10 e direi che è ottimo. Se continua a mantenere questo ritmo, risalirà la batteria fino a portarsi al comando, che al momento è detenuto dalla Corsia 5, 4 e 3. L'amore sembra morta intanto, stranamente, però è famosa per i suoi ritorni. Vediamo cosa succederà. Siamo alla virata di 150. E adesso che deve sparare tutto quello che ha, certo non è facile, sotto questo sole, in questa vasca lunga che abbiamo appurato essere molto pesante nella fase di riscaldamento. Questo è il verso del vento a favore. Emanuela dovrebbe cercare di riuscire a chiudere. Facciamo gesto di dare tutto quello che ha. Ormai siamo alla fine. Gli ultimi battiti. Finita. 2.25 Può essere un tempo soddisfacente. 2.25